Torna a volare il Vasso Girardi che nel recupero della decima giornata di andata batte 4-1 il Castelfidardo. Al di Tella la formazione di Prosperi dimostra di avere tanta qualità, di saper soffrire in alcuni frangenti del match prima di sferrare i colpi decisivi che chiudono il confronto. Dirige il signor guida di Torre Annunziata. Minuto 12 si vedono gli ospiti con una combinazione Giambè e Giampaolo Braconi. Sfera fuori. 60 secondi dopo è Puca a svettare di testa in aria. Sfera fuori. Il Vasso Girardi al primo vero a fondo passa e lo fa con una rete da applausi. E' il quindicesimo quando Salatino e Guida duettano nello stretto tra le maglie della difesa bianco-verde e il numero 10 con un bellissimo tiro a giro spedisce la sfera all'angolino. Vasso Girardi 1-0 Castelfidardo. Ancora locali pericolosi poco più tardi quando Mercay non trova lo specchio concludendo alto. Il Castelfidardo si difende con ordine e si fa vedere al minuto 22 con un lancio di riddio che pesca Giambè, tiro debole che guerra para. I marchigiani poco più tardi hanno la più ghiotta delle palle gol. Giambè va via a destra e mette palla al centro. Giampaolo a due passi dalla linea cestina clamorosamente l'1-1 spedendo a lato. Risposta Vasso Girardi al trentesimo. Mercay Caparbio va via di forza a sinistra e centra per Gentile che di testa impegna David. L'estremo marchigiano si salva con l'aiuto della traversa. Il gol è soltanto rimandato e arriva al trentanovesimo. Gentile conclude dalla distanza. David non trattiene e Mercay come un falco si avventa sulla sfera e fa due a zero Vasso Girardi. Prima del riposo gli ospiti sfiorano il punto dell'1-2 ma la botta di Cusimano si stampa sulla traversa. Su questa azione si va negli spogliatoi. Quello che rientra in campo è un castelfidardo diverso. Al quarto una conclusione di Dibio viene sporcata dalla difesa di casa. Guerra deve fare gli straordinari per deviare in corner. All'ottavo Giampaolo viene fermato in area da Ruggieri in maniera scorretta secondo gli ospiti non secondo guida di Torre Annunziata che lascia correre. Al sedicesimo la formazione di Di Lauro accorcia le distanze. Fermani conclude dalla distanza. Guerra la combina grossa e non trattiene la sfera che termina in rete. Lo stesso numero 7 ospite tre minuti dopo va in percussione e colpisce il palo esterno. Scampato il pericolo il vasto Girardi ristabilisce le distanze. Al ventitresimo Raucci da poco entrato viene atterrato in area da Sant'Angelo. Per guida è rigore. Sul dischetto si presenta Salatino che fa 3-1 con il cucchiaio. Piove sul bagnato per il castelfidardo che al trentottesimo resta in dieci. Giambè già monito intercetta con la mano al limite dell'area una punizione di Mele. Secondo giallo e conseguente rosso per l'attaccante. Nuovo piazzato per i padroni di casa qualche metro più avanti. Della battuta si incarica lo stesso Mele. La conclusione viene respinta dalla barriera con la sfera che torna nella disponibilità del numero 15. Bravo a indovinare di potenza l'angolino e a spedire in fondo al sacco il pallone del definitivo 4-1. Il vasto Girardi sorride e può preparare nel migliore dei modi la gara interna di domenica prossima contro il notaresco.